Eccoci, rete, rete ha segnato Enrico Caporale per il pareggio, è passato in vantaggio prima il miglianico calcio con un bel tiro da fuori aria che ha sorpreso il nostro portiere. Adesso si riprende uno a uno, siamo nei primi minuti del primo tempo di questa prima giornata del campionato giovanissimi, Girone e Chieti, è la prima gara delle due compagini. Eccoci Riccardo Delbello che passa a Didonato, Didonato, ecco Didonato che protegge la palla.